Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Mimi ed oggi video unboxing di carta libreria e con sorpresa alla fine, quindi buona visione e ovviamente iscrivetevi al canale perchè siamo arrivati in 32 busta ecco qui la busta, come già qui intravederete un bellissimo astuccio ora lo prendo ah ecco qui l'astuzzo, è molto carino e fuma di porcellino chiatto 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 porcellino chiatto 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 poi qui abbiamo una frase che non saprò mai cosa voler dire ma tutto vuol dire dolcissimo e bellissimo poi qui c'è la scritta color book cioè è super squishy, squishy, squishy e dentro è di gomma, 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 gomma cioè è tutto di gomma, è super squishy e su, guardate le zampine metto a fuoco ci sono metto a fuoco ci sono dei cuoricini mimi mi mi approved ragazzi ecco la prossima cosa è una gomma verde acqua cioè turchino questo è verde acqua questo è turchino c'è la gomma è turchino e la cosa è verde acqua allora oltre ad essere super rilassante giuro è rilassantissimo sentite aspettate è davvero bellissima perché allora cancelli ti consuma questa parte vai su c'è tutta questa ti consuma vai su e poi la gomma finisce la cosa bella è che pure se la gomma finisce tu ti continui a fare così i love you mimi approved e l'ultima cosa che ho preso è questa bellissima gomma che non vedo la di mettere nell'assuccio perché cioè è gomma chiutina a pandino tra tutti i due lati c'è un panda e poi c'è scritto mood panda o mod non so come si pronuncia e anche questa è della color book allora guardate le ciampotte i cuorecini davvero bellissima e guardate che bel visino ragazzi oh mamma mia mimi approved e la sorpresa che andremo ad aprire è il kinder joy funk dei friend non so come si chiama io li chiamo dei friend e andiamo a aprire la sorpresa perché comunque chi troveremo sarà un personaggio delle nostre storie l'ho aperto e questa è la sorpresa allora ragazzi sono rimasta un po' delusa perché esce la sagomina eccola poi esce l'adesivo e per la cosa da metterci dietro io mi pensavo dei personaggini per giocare per le storie ma no perché chiederlo ecco qui come si monta beh è un portachiavi carino dai ma non so se c'è solo la serie funk oppure ci sono altre serie però non lo so non mi convince ora lo monto vabbè poi me lo attaccherò da qualche parte oppure mi attacco solo la stella perché mi piace un po' di più del personaggino e ora lo monto ok liberiamo aspettate sentite rilassantissimo aspetta relax aspetta ho messo male devo dire che la sorpresa non mi è piaciuta quasi per niente ragazzi davvero scusate il termine ma è una schifo questa cosa ecco qui è la nostra figura ora la mettiamo qui e pronta allora quando ho detto schifo non è che mi riferivo che la sorpresa faceva schifo quello che mi è uscito c'è allora vediamo la checklist quale si possono trovare allora si può trovare lui 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 no lei lui lui lei è una lei si lei e lei allora il più brutto era questo e ovviamente c'è uscito il più brutto e la cosa che mi fa rabbia è che si stacca la stellina vabbè ciao ciao